mini recensione per patreon richiesta a federico fabbri mi fa parlare di un capolavoro degli anni 90 ovvero it la sfida del 1995 del grandissimo michael man io lo vivi al cinema la prima volta e al cinema rimasi un po basito perché nonostante le bellissime scene di d'azione c'è la scena della rapina girata che famosissima del film che dura tantissimo che poi povero michael man ha dovuto girare solo nei fini settimana quindi staccava ripartiva perché non gli davano i permessi mi colpì già però trovai i racconti familiari un po forzati poi guardando un'altra volta il cinema invece incominciai a capirne la profondità nella terza volta ho visto in vhs incominciai a seguire meno le immagini che erano fantastiche più ancora di più i dialoghi e ne sono rimasto veramente colpito ma la storia è veramente semplice e mille questo rapinatore che fa tutto in 30 secondi una bestia di rapinatore che ha peraltro seguito tre rapinatori che lo aiutano però nelle loro rapine viene sempre inseguito da vincent anna interpretato dal pacino che a questo poliziotto che praticamente e sa questi rapinatori li vuole incastrare a ogni costo un giorno fanno appunto una rapina enorme questi rapinatori ammazzano tre poliziotti a questo punto il nostro anna a tutte le prove diciamo così aleatorie quelle che non può portare in tribunale per sapere chi sono i colpevoli però a questo punto decide di in tutti i modi di doverli incastrare per portarli alla legge questa è la trama è una trama classica di un est movie in realtà però quello che colpisce appunto è la messa in scena di michael marco prima di tutto c'è una regia che non si vede c'è la rapina di hit la sfida tutte le rapine tutte le scenerazioni sono girate in una maniera spettacolare gli attori che sia john voight addirittura anche valkilmer al pacino e deniro fanno a gara di bravura la scena nel ristorante che tra l'altro è stata tutta non provata e improvvisata da per volere di deniro perché così risultava più credibile è fantastica puoi dire di più di un film così è un film che poi realtà racconta appunto queste storie familiari queste storie di questi ladri e questi poliziotti che si incrociano e sembrano molto più simili di quanto in realtà il loro mestiere li porti a fare quindi un film che parla di vita amore e odio senza però mai uscire dagli schemi risultare un action caciarone modello anni 80 qui tutto è gestito con grandissima mano perché michael man firma un vero capolavoro il miglior film probabilmente di rapine degli ultimi anni insieme a inside man un capolavoro hit la sfida che con gli anni comunque sempre diventato più cult e che merita comunque nella prossima prima o poi farò nei giro di pochi mesi la monografia di michael man avrà bisogno di un ulteriore diciamo così approfondimento resta il fatto che questo hit la sfida è uno dei film più belli degli anni 90 è un grande film di michael man è un capolavoro e ringrazio appunto federico fabbri perché me ne ha fatto parlare anche se così velocemente in questi mini recensioni come ripeto nella recensione ma nella monografia di michael man ne parlerò ancora più adeguatamente ma un film così di rapine così intenso con dei dialoghi così belli con una reazione così ispirita montaggio fotografia così perfetti e praticamente non si vedono quasi mai sullo schermo e quindi che dire un film che ha più di a quasi 25 anni che sembra girato invece ieri l'altro che sembra girato anche più adeguatamente di un film che non si vedono poi un film che non si vedono poi ci vedono poi ci vedono qui in cui si vedono i